il master di gerusalemme si è chiuso con una medaglia storica per italia alice bellandi ha vinto l'oro nella categoria 78 kg bellandi portacolori delle fiamme gialle diventa la prima donna italiana a vincere un master di judo alice bellandi è nata a brescia il 20 novembre del 1998 di professione finanziere fa parte del gruppo sportivo delle fiamme gialle la sua altezza è di un metro e 75 si è arruolata nella guardia di finanza il 23 novembre del 2016 è cresciuta e si allena a ostia si è messa in mostra a livello giovanile vincendo il titolo di europei cadetti a sofia 2015 e ai mondiali junior di nassau del 2018 nella sua carriera conquistate un oro ai mondiali junior e un oro agli europei cadetti